ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è rossella pani oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana a partire dal momento in cui la stai guardando utilizzeremo tre mazzi di carte ok potrai scegliere gruppo a gruppo b o gruppo c ti chiedo durante la preghiera di protezione di mettere le tue mani sul cuore di chiedere ai tuoi angeli all'arcangelo michele alla tua anima qual è il gruppo di appartenenza più giusto per te per il tuo massimo bene potresti scegliere anche tutti e due i gruppi addirittura tutti e tre va bene quindi iniziamo con la nostra lettura angelica prima prima di tutto naturalmente faremo una preghiera di protezione all'arcangelo michele invoco la divina presenza di dio dea onnipotente padre madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le persone che con tanto amore seguono le mie letture invoco te arcangelo michele invoco il maestro gesù maria regina celeste l'intera coscienza michaelica le nuove frequenze di luce con amore vero puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia le nostre intenzioni parole d'azioni di liberarci dall'ego dalla paura dal giudizio dalla competizione da tutto ciò che ho posto a dio alla luce all'amore vi chiedo con amore di elevare le nostre energie vibrazioni e frequenze di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra con autorizzazione dell'anima sé superiore di tutte le persone coinvolte e di creare uno scudo di protezione a livello fisico mentale emozionale spirituale in tutti i livelli del nostro essere dentro di noi intorno a noi nella nostra anima nel nostro spirito nel nostro corpo quindi a livello fisico ma anche a livello energetico affinché possa entrare solo la luce l'amore la pace la guarigione la bellezza la spensieratezza la creatività l'abbondanza la gioia infinita e che questi messaggi che stanno per arrivare possano aiutare il maggior numero di persone possibili per il loro massimo bene il massimo bene supremo grazie caro dio grazie arcangelo michele grazie al maestro gesù grazie coscienza micaelica grazie alle nuove frequenze di luce è fatto è fatto è fatto e così è così sia ora per sempre e per l'eternità ok iniziamo a mischiare le carte vi piace questo angelo anche questo fa parte delle carte di connessioni angeliche che spero possano essere pubblicate entro la fine dell'anno allora iniziamo con qualcosa di importante celebrazione per voi ok quindi è una cosa importante in questo momento ok vediamo un po per il gruppo a ora vediamo il gruppo b gruppo b la abbiamo la fatina la fatina che vi sta aiutando ad avere fede fiducia ok poi andiamo a vedere nello specifico o mannaggia mi sono cadute delle carte però ne è caduta una in particolare quindi utilizzeremo questa per la per il gruppo c abbiamo ispirazione cioè ispirazione scusate quindi non ispirazione ma ispirazione allora vediamo un attimino le carte degli unicorni ho scelto gli spiriti della natura degli unicorni le fattine perché è un invito da parte dell'arcangelo michele anche quello di trascorrere del tempo fuori dal caos immersi nella natura per per sentire anche le energie della madre terra magari approfittare di queste belle giornate per guardare le stelle per connettersi con l'energia della luna insomma questo ci aiuta ma a stabilire una maggiore connessione con noi stessi allora assolutamente apriti a ricevere per il gruppo a ok gruppo b abbiamo crescita crescita vediamo il gruppo c abbiamo pazienza vediamo ora le carte queste io adoro queste carte sono piccoline ma hanno dei messaggi molto potenzianti molto 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 veritieri soprattutto allora gruppo a abbiamo discernimento ok gruppo b abbiamo avversità ok sì perché il secondo gruppo è a che vedere con la crescita personale spirituale con l'affrontare delle sfide vediamo il gruppo c invece felicità ok bene iniziamo la nostra lettura angelica un po particolare un po diversa rispetto a quelle eh cioè naturalmente tutte le letture sono diverse però vi sono ci sono dei temi un po eh particolari che si differenziano allora c'è celebrazione per il gruppo a nel senso che assolutamente mh c'è un'energia eh che ti sta dicendo sì pronto sì pronta a celebrare perché stanno accadendo grandi cose stanno per accadere grandi cose nella tua vita hai bisogno anche di ballare di divertirti di godere di godere della vita eh diciamo che c'è anche la possibilità che tu possa essere invitato o invitata ad una festa ad un compleanno ad un incontro importante ad un evento importante quindi c'è eh qualcosa alle porte che porta cambiamento porta novità innovazione nella tua vita grande crescita eh a livello mh anche economico mh aprite a ricevere perché eh stanno entrando stanno per arrivare eh delle entrate economiche quindi anche dell'energia positiva nella tua vita abbondanza infinita in tutte le sue forme quindi si è aperta a ricevere ok quindi diciamo che è anche in questa carta è anche per dirti apriti a ricevere eh tu sei degna e meritevole degno e meritevole di ricevere abbondanza infinita ma ci vuole un'apertura al ricevere smettila di parlare male dei soldi smettila di giudicare smettila di eh sentirti limitato limitata cambia la tua prospettiva cambia il tuo mindset programmati per l'abbondanza esci dalla negatività la negatività porta solo altra negatività quindi questo è un invito veramente a celebrare anche a livello energetico a prepararti energeticamente per ricevere eh grande abbondanza nella tua vita va bene ci vuole il discernimento dicono gli angeli c'è una situazione che ti sta un po' ehm ti sta turbando ti sta bloccando eh veramente proprio hai bisogno di fare uno switch come si dice un cambiamento nel tuo mindset perché c'è qualcosa che ti sta eh ti sta ti sta facendo entrare in confusione usa il tuo discernimento hai bisogno di discernere per una certa situazione lascia andare l'ego il giudizio eh ascolta il tuo cuore smettila di ascoltare diecimila campane all'esterno eh impara tu gli angeli dicono a eh discernere a fare le tue letture angeliche le tue eh come dire smettila di chiedere all'esterno fai introspezione usa l'arte della divinazione per scoprire cos'è meglio per te fai delle domande non egoiche ma allineate all'amore eh perché veramente hai la possibilità di di scoprire dentro di te chi tu sei veramente hai bisogno di fare questa introspezione basta col caos il caos non ti serve a niente eh fai silenzio non parlare troppo con gli altri dei tuoi progetti ascolta il tuo cuore perché ripeto un'energia molto positiva in arrivo nella tua vita alle volte i segreti vanno tenuti tali perché eh alcune persone con la loro energia bassa frequenza non necessariamente sono persone cattive o malvagie ma le loro insicurezze potrebbero essere trasmesse a te quindi possono a qualche livello deviare il cammino invece tu hai bisogno di centratura di radicamento va bene ok quindi assolutamente presta attenzione alla tua intuizione più natura più connessione più divinazione con le carte con la meditazione con la preghiera ascolta il tuo cuore perché veramente le risposte arriveranno c'è un'energia molto potente molto positiva in arrivo per te ok allora è venuto il momento di credere eh diciamo che mh i fatti sono diversi va bene rispetto a quello che tu credi sia la verità anche per te c'è bisogno di introspezione va bene eh alle volte eh diciamo che alle volte bisogna credere prima di vedere molti di voi sono un po' come santo maso prima vogliono vedere per credere alle volte invece richiesto un atto di fede di fiducia quindi le fattine ti stanno anche dicendo gli esseri della natura di fare un salto nel vuoto nel buio ma non è buio è affidarsi a dio affidarsi all'amore affidarsi all'abbondanza affidarsi al fatto che eh quando tu chiedi protezione quando tu chiedi guida d'assistenza quando tu chiedi aiuto assolutamente questo arriva nella tua vita l'hai visto nel passato che questo è accaduto per quale motivo se gli angeli ti hanno assistito in passato non possono assisterti anche adesso va bene quindi lascia andare questa negatività veramente vi chiedo a tutti voi gruppo a gruppo b o gruppo c chiunque mi ascoltando uscita dal caos è un periodo molto frenetico soprattutto per chi vive nei luoghi eh diciamo frequentati da turisti e così via dove c'è molto c'è frenesia c'è caos forme pensiero di eh lasciate andare veramente queste energie magari isolatevi un po' cercate di ascoltare il silenzio cercate di eh di sintonizzarvi nella gioia nell'allegria alle volte però anche il caos porta gioia nel senso che non il caos voglio dire le persone quindi se vi piace stare in mezzo alla gente magari andate a ballare andate a divertirvi fate un picnic andate al mare andate in montagna avete bisogno di evadere avete bisogno di ehm di di vivere nelle frequenze alte quindi fate ciò che vi dà gioia se il silenzio che vi dà gioia entrate un po' in in introspezione in silenzio in ascolto se avete bisogno di uscire eh proteggetevi energeticamente ma uscite state in mezzo alla gente però fate ciò che vi dà gioia va bene è un periodo di grande crescita spirituale per te va bene hai avuto veramente tante sfide tante cose da affrontare eh veramente ora sei un po' stanco sei un po' stanca di tutto questo è un ciclo che si chiude è un nuovo ciclo che si apre va bene ok diciamo che le lezioni imparate eh sono servite magari adesso non ti rendi conto ma sono servite serviranno per evitare di commettere gli stessi passami il termine errori adesso è il momento di fare uno un salto quantico perché eh diciamo non credere che che hai fallito in qualcosa eh se c'è stata la chiusura di una relazione piuttosto che la fine di un lavoro eh diciamo magari in questo momento sei in crisi perché stai cercando qualcosa di nuovo nella tua vita non esiste il fallimento il fallimento è la fine di un ciclo è l'inizio di un nuovo ciclo eh datti il permesso di vincere se non hai vinto prima vincerai adesso datti il permesso di cambiare il cambiamento ti serve per crescere perché è proprio un invito alla crescita personale e alla crescita spirituale a fare quella grade a fare quel salto quantico quantico che la tua anima sta chiedendo in questo momento è determinante per per la tua evoluzione va bene ok gruppo c allora presto riceverai diciamo un grande ci saranno veramente delle informazioni che potrai ricevere o a livello energetico se sei un canale di luce se una persona abituata a meditare ad ascoltare l'intuizione e così via quindi nuove informazioni sono stanno arrivando a te oppure potrai ricevere queste informazioni da altre persone che magari senti parlare ti danno dei consigli magari attraverso questa lettura angelica o magari attraverso la lettura di un libro queste informazioni che ti sei che dici che coincidenza che curioso eh questo messaggio sembra apposta per me esatto è proprio per te quel messaggio e quei messaggi che stanno arrivando che sono appena arrivati o che arriveranno sono fondamentali per fare quel quello step in più per apportare i cambiamenti positivi nella tua vita va bene eh quindi assolutamente abbi fiducia in questi messaggi perché sono dei messaggi veritieri poi anche vero dice l'arcangelo michele che ci vuole tempo per manifestare quello che tu hai dentro quello che tu vuoi eh il lavoro la persona giusta ehm i soldi eh si stanno manifestando però ci vuole un po' di pazienza le tempistiche divine sono un po' diverse rispetto ai tuoi tempi tu vorresti tutto e subito questo lo capiamo dicono gli angeli però veramente stai tranquillo stai tranquilla che tutto sta arrivando in maniera sincronica e perfetta perché è l'energia giusta come nel gruppo A c'è un'energia di celebrazione c'è un'energia di mh arrivo di grande eh abbondanza di grande prosperità che non vuol dire necessariamente soldi può voler dire nuove amicizie nuovi contatti un nuovo lavoro un viaggio un'esperienza nuova nuove informazioni che ti servono per la tua crescita personale spirituale per i tuoi cambiamenti e per la tua evoluzione va bene c'è tanta felicità per voi veramente è una carta di mh veramente apriti alla gioia scusate sto cercando di farvi vedere la carta apriti alla gioia la felicità e e si felice di essere felice voglio dire eh so che ci sono tante persone che soffrono anche intorno a te prega manda luce manda guarigione ma non negare a te stesso a te stessa la gioia di della felicità di essere vivo di essere viva e di godere della vita e delle cose belle che si sono manifestate o che si stanno manifestando il tuo dolore non aiuta gli altri la tua gioia può aiutare gli altri l'uscire dal dolore va bene ok bene anime in più scusate quando c'è il libro per il messaggio finale allora oggi fare prenderemo anche un messaggio finale per tutti voi io chiedo all'arcangelo michele guida d'assistenza per portare un messaggio di gioia speranza abbondanza per tutte le persone coinvolte ok gli angeli dicono abbandona le scorciatoie va bene ok non sempre la via più breve porta la soddisfazione i vantaggi di una lunga camminata lungo la strada maestra è il momento di percorrere interamente il tragitto al quale sei destinato o destinata senza furbizia perché il tragitto è indispensabile quindi cerchiamo di avere pazienza va bene rimanere sempre nell'integrità rimanere sempre nell'amore rimanere sempre allineati alla via maestra perché questo ci darà delle soddisfazioni molto più grandi rispetto a eh prendere le scorciatoie e arrivare al nostro obiettivo così e magari puoi essere infelici perché alla fine non abbiamo seguito eh la via giusta va bene bene io vi auguro una settimana strepitosa e meravigliosa tante benedizioni dall'arcangelo michele dagli angeli eh da me eh volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta va bene eh però per lo più mi occupo di insegnare alle persone cosa eh logo ceiling per aiutarvi a eliminare i blocchi le paure le credenze limitanti aiutarvi nella riprogrammazione dell'inconscio per allineare la vostra energia i vostri sogni e i vostri obiettivi è un lavoro molto efficace perché veramente cambiando la la vibrazione tutto intorno a voi inizia a cambiare molto più velocemente nella vostra vita e in più insegno anche a connettersi con le nuove frequenze di luce pensate che il corso online o dal vivo sempre con me dal vivo ma online inizierà eh il diciotto settembre no sto dicendo una fesseria il venticinque di agosto va bene quindi se volete imparare a connettervi con le nuove frequenze imparare tutto sulla guarigione imparare tutto sul luogo ceiling fare un percorso veramente completo eh contattatevi così vi manderò il video training informativo eh e poi vi darò tutte le informazioni necessarie quindi ripeto la classe partirà il venticinque di agosto e mancano solo due posti ok eh in più in il corso di connessione angelica per imparare la connessione corretta con i vostri angeli custodi con l'arcangelo Michele e gli angeli che appartengono alla coscienza dell'arcangelo Michele ecco questo corso meraviglioso di sei settimane partirà il diciotto di settembre ci sono ancora sette posti disponibili quindi c'è più tempo eh ripeto anche qua vi posso mandare il video training informativo quindi non fate altro che contattarmi senza impegno e noi ci sentiamo eh la settimana prossima un bacione a presto buona estate buone vacanze buon ferragosto buon tutto bacissimi a presto